Ciao a tutti ragazzi del vostro Polo Spal 07 E' appena terminata Pontedera Spal, punteggio 2 a 1 per il Pontedera che nel recupero trova il gol vittoria legittimando secondo me una prestazione ben superiore a quella della Spal e trova una vittoria che al mio punto di vista ci sta ed è ineccepibile La Spal stava per portare a casa un pari ma non ce l'ha fatta ed era un pari che comunque secondo me non sarebbe stato meritato Rimonta subita dunque dopo essere passato in vantaggio col gol di Dalmonte Pontedera che reduce anche da un pallo e una traversa La Spal ha fatto qualche bella azione ma fondamentalmente ha fatto tutta la metà del primo tempo e buona parte del secondo tempo a un livello assolutamente penoso Torniamo in affanno quando vediamo che una squadra gioca un pochino meglio di noi perché comunque oggi il Pontedera ha giocato bene secondo me ha palesato tutta la superiorità del livello calcistico a cui noi siamo e non appena andiamo un pochino in affanno ricominciamo a buttare su palloni senza costrutto lanci lunghi, butta via, sbagliamo dei passaggi facilissimi e ci affogliamo dei contropiedi spesso mediocri cercando di difendere il più possibile un risultato non essendone neanche capaci La Spal dunque perde una partita dopo aver giocato molto bene a mio avviso con Rimini una prestazione veramente di ben altro spessore rischia dunque di verificare tutto e adesso vediamo i risultati delle altre rischiamo di essere ricacciati in zona play out questo come monito per dire che è sbagliato esaltarsi io sentivo già dopo la partita di Rimini sentivo già parlare di play off sentivo già parlare di sogniamo i play off, sogniamo i play off ragazzi noi quest'anno, io non la voglio sentire la parola play off quest'anno i play off noi ci dobbiamo sognare noi faremo fatica a salvarci punto ok? buono buona la vittoria con Rimini ma eravamo comunque nonostante tutto dopo la vittoria con Rimini eravamo comunque più due sulla zona salvesta stiamo ancora facendo i conti degli otto punti sulla penultima perché così guadagniamo una posizione in più e andiamo a parlare di play off ragazzi ma stiamo scherzando il livello è questo, la squadra è questa oramai non dico più, eh dobbiamo migliorare lì, dobbiamo migliorare là perché oramai a metà marzo cosa andiamo a migliorare è una squadra che quando giocherà contro queste formazioni qua che muovono bene la palla va in crisi e probabilmente anche se va in vantaggio farà una fatica bestia e c'è caso anche che perda e nella lotta punto a punto anche queste partite qua possono fare la differenza quindi noi faremo tanta fatica a salvarci, veramente tanta forse dovremmo anche giocare un play out, non lo so, questo lo vedremo ovviamente l'obiettivo è la salvezza diretta cosa che essendo punto a punto ci possiamo ancora tranquillamente arrivare serviranno prestazioni di ben altro spessore rispetto a quella di oggi perché abbiamo fatto cagare, ok, cagare veramente per buona parte della partita dobbiamo giocare un tipo come abbiamo giocato con Rimini ovviamente magari senza arrivare a quelle valori ma dobbiamo giocare decisamente meglio e silenzio sulla parola play off qui quest'anno ragazzi se va bene ci si salva buona lì e anche per oggi se andate alla fine del video scrivetevi nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video è sempre Forza Spal Forza Spal